Due giornate di spiritualità e di studi storici a Barletta sulla chiesa di Santa Maria della Croce in occasione dei 500 anni di fondazione e dei 450 anni dalla morte del beato Raffaele da Barletta. L'appuntamento si è celebrato presso i saloni della parrocchia di San Giovanni Apostolo a Barletta. Sindaco, è importante prestare attenzione alle periferie che, come scopriamo stasera, nascondono una storia, dei tesori davvero inestimabili. Sì, l'importante di questo appuntamento è che si riscopre non una periferia ma un pezzo di storia della città, un pezzo di storia che risale a 500 anni fa, insomma, non a caso quella via si chiama via della Santa Croce, ma è importante che la periferia, come dire, ricostituisca la propria memoria e la propria identità anche sulla base della storia. Non c'è più nulla lì. Si va a mettere un cippo, un cippo che vale unicamente come testimonianza in questo momento, ma che guarda la prospettiva di qualcosa che torna e qualcosa che costituisce in qualche modo il futuro delle nuove generazioni. Lo spirito di questo convegno è un ricordare per edificare, in modo particolare in questo contesto di un quartiere nuovo, dove ci sono le nuove generazioni, che sorge su un territorio dove c'era l'antica chiesa di Santa Maria della Croce, di cui celebriamo i 500 anni di fondazione e i 450 anni della morte del beato Raffaele da Barletta. Cosa rappresentava questa chiesa? Beh, pur essendo fuori le mura, quindi possiamo dire oggi, nella periferia, era, dagli studi fatti, il cuore pulsante della devozione mariana, in modo particolare alla dolorata, quindi un punto di riferimento del culto mariano, prima che fosse introdotto dal 1732 il culto, la devozione alla Vergine Maria dello Sterpito. E poi un riferimento di carità, perché lì vive il beato Raffaele da Barletta, che era, si è distinto nella vita, come padre dei poveri. Permetterei anche di dire che questa comunità, che oggi ricorda questi due eventi, si rannoda ad una storia, dicevo prima, che è un ventaglio di santità che la città contiene, quindi è una sorta di insieme di colori che hanno caratterizzato proprio questa bellezza della storia religiosa di Barletta, che sfocia anche nel culto mariano, così come noi oggi l'abbiamo trovato e lo viviamo, e continua ad incrementarsi. Grazie a tutti.